Fino al 14 gennaio, alla Biblioteca della Regione Piemonte, la mostra Anche qui è nato Gesù, con esposizione di presepi da tutto il mondo, ambientati anche in luoghi non convenzionali. Fino al 16 gennaio, a Palazzo Lascaris, la mostra Matite di guerra, satire e propaganda in Europa, 1914-1918, vignette satiriche sulla Prima Guerra Mondiale, giornali di trincea, disegni, libri, cartoline d'epoca e tavole originali, realizzati da artisti e disegnatori di tutta Europa.